Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? Oggi per la prima volta su questo canale non andiamo a sbirciare, a studiare un progetto insieme ma andiamo a vedere un'applicazione per fare un pochino di soldini gratuitamente Per gli scettici e per le scettiche questo in ambito cripto è molto comune pensiamo solo ai vari iDrop di OneInch, di Uniswap dove appunto le imprese, le start-up per far sì che il loro progetto venga a galla molto spesso gratuitamente regalano i propri token La criptovaluta di cui parliamo oggi è la cripto di Swissborg che è un'impresa svizzera Non andremo ad approfondire il progetto perché ci focalizzeremo sull'applicazione Allora ragazzi, come sempre andiamo su CoinGecko e vediamo un pochino il nostro Swissborg che in questo momento si trova al 95esimo posto qui come al solito possiamo vedere la capitalizzazione di mercato l'offerta in circolazione e in questo momento il prezzo del token Swissborg si trova a circa 1,24$ Niente male Vediamo un pochino massimo storico risalente a circa due mesi fa 1,55$ e come sempre se andiamo un pochino in basso ritroviamo tutti gli exchange sui quali è possibile acquistarlo Allora, vando alle ciance e iniziamo subito Innanzitutto dovete scaricare sul vostro App Store o Play Store l'applicazione di Swissborg Community Dico Swissborg Community perché le applicazioni sono due Voi dovrete scaricare l'applicazione con lo sfondo bianco e il logo di Swissborg che vi faccio vedere tra due secondi nel video Perfetto, una volta scaricata l'applicazione quest'ultima vi chiederà di inserire il vostro numero di telefono o il vostro nome e cognome Potrete anche mettere dei nomi e cognomi falsi questo non è importante Questa applicazione, come ti dicevo anche nel titolo ti permette di portare a casa all'incirca 250€ partecipando appunto a questa competizione qui Innanzitutto, quello che devi fare tu, se riesci, ogni giorno è meglio è fare delle previsioni sul prezzo di Bitcoin L'applicazione infatti ti chiederà di prevedere il prezzo di Bitcoin delle prossime 24 ore e tu successivamente dovrai decidere quanti punti perdere o quanti punti guadagnare da un minimo di 200 punti ad un massimo di 10.000 punti Ad esempio, se io domani penso che il prezzo di Bitcoin salga devo semplicemente cliccare su Going Up e successivamente decidere quanti punti perdere o vincere perché nel momento in cui io punto ad esempio che Bitcoin salga e punto 10.000 punti questi punti li posso vincere ma come li posso anche perdere nel senso che se il giorno dopo Bitcoin è calato di prezzo tu perderai questi 10.000 punti allora i punti come si possono guadagnare o scommettendo su appunto facendo previsioni sul prezzo di Bitcoin oppure invitando amici sono circa 3.000 punti ad amico che si iscrive all'applicazione oppure anche si possono accumulare punti entrando ogni giorno all'interno dell'applicazione questi punti a cosa servono? servono ovviamente per stare più alti o più alte in classifica perché il primo in classifica pensate che si può portare a casa circa 16.000 dollari io in questo momento mi sto portando a casa circa 5 dollari perché non sono alta in classifica sono circa 10.000 una cosa del genere però a me non interessava essere prima in classifica perché mi rendo conto che è una cosa molto complessa anche perché l'applicazione esiste già da un po' ma mi interessava appunto guadagnare questi 250 euro circa attraverso lo svolgimento delle varie missioni e ce l'ho fatta mi sono portata a casa questi 250 token che però sono bloccati per un anno però ragazzi questa non è una cosa malvagia perché visto che non possiamo spostarli probabilmente il prezzo del token sono consigli finanziari salirà o si abbasserà questo non lo so però nel caso dovesse salire noi ci porteremo a casa molti più soldini relativamente alle missioni non è nulla di eretico se ce l'ho fatta io ce la potete fare benissimo anche voi l'applicazione inoltre ti dà le varie news relative al mondo cripto e quindi non ti resta che scaricarla e provare a giocare un pochino iscrivetevi al canale fatemi sapere se il video vi sia piaciuto e anzi se questo tipo di format vi piace se vi piace ricevere questo tipo di notizie fatemelo sapere qui nei commenti che cercherò di portarne sempre di nuove ci vediamo presto un bacione un bacione un bacione Grazie a tutti.